Sono le 21. Ciao! Ciao! Ho fatto la liquidina stasera, non solo stasera, ho fatto tanta oggi, tanti, tantissimo, ho preso freddino, però ho buone notizie. C'è una possibilità, una buona possibilità che oggi forse può darsi, cioè non siamo sicuri di niente perché non siamo sicuri mai di niente, però abbiamo una notizia positiva, forse oggi ho visto il mio prossimo alloggio. Che può essere? Può darsi, però, oh, e che facciamo? Ficcava abbastanza. Grazie a Codogodo per la sua sub, ad Alex Chigame, anch'esso per la sua sub, a Branksker per i suoi 27 mesi, e a Derky, per la sua sub. Sei tu l'uomo capra? Buonasera. Buona pisciata, Marco. Aspetta che prima apro la live, perché sono un tipo previdente, se no poi perdo tempo. Vabbè, tanto osti tu, quindi ti aspetto lo stesso, è tranquillo. Grazie, è molto giusto. A lei, a lei, famiglia, famiglia. La mia famiglia è disgraziata, non so se hai visto la mia live. No, perché non voglio spoilerarmelo, perché mi ero ripromesso di registrarci qualcosa, o farci... Poi mi dici se ti sei divertito, ma non mi dici nient'altro. Mi sono divertito. Sono contento che ti sei divertito. Però sono stato veramente bravo. Se non sei bravo, non so quanto ci metti a fare le robe. Eh, ma tu ho visto che hai giocato con mouse e tastiera. Poi ho chiuso tutto, perché già la prima scena era spoilerissimo. Io ho giocato con mouse e tastiera. Eh, lo so. Forse è più facile. Eh, voglio giocare col pad io. Vado a urinare. Vada, vada. Grazie il cod, siamo 23, a breve sanon 24. Saluti dal samurai che non si chiama mai. Solo lui. Vabbè. Monkey, ma do quanti mesi. Grazie mille. E Nero no core. Buonasera, gatto. Ma le faremo il partitone ad antem con i sabber? Oddio, non so se si può fare. Si può fare? Non lo so. Vediamo. Grazie a Flavius per la sua sub. Che simpatico. Flavius e Alessio Sciampo. Un tordo litiga con un altro tordo e dice, io ho ragione e tu hai tordo. Mamma mia, mamma mia. Ficca il gioco di stasera. Allora, l'abbiamo provato, funzionava. Poi da lei a dire che è ficca, non lo sappiamo. Abbiamo speso. Aspetta. Vi dico, vi do un'infarinatura generale sul gioco. Adesso abbiamo, aspetta, che cazzo è. The Goatman. Eccolo lì. Pagina del negozio. Fammi spegnere lì. Allora, no. Allora. Nello store, cioè su Steam adesso costa 12,49 euro, che è una cifra un po' particolare. 12,49. Vabbè. Ma noi gli abbiamo dato tipo 3 euro. Gli abbiamo dato 3 euro. Era in sconto un paio di giorni fa. Non lo so. Mori, che la seguo dai primi video con Yotobi, ma mi sono deciso di iscrivermi solo ora. Grazie mille per tutto il suo lavoro. Grazie mille per il suo. Grazie mille a lei. Grazie mille a lei. Ah, sì, mi ricordo. Comunque. Hat che fine ha fatto? L'ho solo scaricato. Tutti dicono che faccia cagare a spruzzo e che giri male. Quindi non volevo passare una live come quella di Ark. Quindi preferisco provarlo per i cazzi miei. Al massimo butto via un video piuttosto che buttare via una live. Ghost Gamer. Sono qui da poco, ma vale sempre la pena. Grazie per tutto l'intrattenimento. A lei, grazie mille. Grazie mille. Ah, sì, mi ricordo. E quindi... Oh. Non lo so. Potrei aver trovato la mia futura casa. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Vi farò sapere. Naturalmente vi terrò aggiornati. Oggi sono stato a vederla. Aveva le stanze che dico io. Dovrebbe avere la 200 MB con rame. Quindi vuol dire che è una 100 MB fasulla. Però a noi va bene. Alla fine c'è... Per quello che facciamo noi va bene. Va bene. Non mi serve la FTTH. Mi serve una connessione che funzioni bene. Questo purtroppo è sempre un azzardo. SIF verrà con me, certamente. Sì, 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 sì. Aveva le finestre triple. Vi dico che siano stati lì. Io ero in... Non in Manicacorra. Ero in felpa. I riscaldamenti erano a zero. Non alla FTTH. I riscaldamenti erano a zero. Però se toccavi il termosifone aveva un po' di tiepidanza. Non tanta. Ma si stava da Dio. Si stava veramente da Dio lì dentro. È un bel giardinone per il buon sifone. Poi vabbè. Uno studio, finalmente uno studio dove potrei lavorare. Una camera da letto e una camera da letto per gli ospiti. Che non ci serve, però c'era che dobbiamo fare. Non gliela potevamo andare indietro. Grazie a Fededal per i suoi 15 mesi. Non è detto, eh. Non è detto che sarà quella. Adesso abbiamo in ballo altre situazioni. E... Nel caso... Si va. Nel caso si va. Non zona Mirano. No, no, no. Ci siamo spostati. Eh, la camera per il pargolo, no. Per l'affitto. Noi andiamo in affitto. È presto ancora per parlare di pargoli. È presto ancora per pensare di comprare una casa. Gabriel, quando vuoi. Puoi venire. Jules no, però, che mi fa schifo. Grazie a Palmasan. Buonasera, ragazzo. Può salutare la mia coinquilina Melissa? Assolutamente no. Ah, sì, mi ricordo. Perché il nome Melissa non mi garba. Mica per altri motivi. Se si chiamava Giovanna... Ciao, Giovanna! Ma Melissa no. Melissa, ma perché Melissa? No. Grazie. Dai, dai, forza! Ma a te piace il nome Melissa? Melissa? Eh. Bello, bello, sì. Non ti credo. Non ti credo. Carino Melissa, è particolare. No, non è vero. Melissa John Hart, quella che faceva Sabrina Vita da Strega, l'attrice. Si chiamava così. Quante ne so, eh? Ne so una più del diavolo. Grazie al Metal Meccanico, per i suoi 17 mesi. Non rimango a palla. Oh, Veronica. Beh. Anche Veronica è un bel nome, no? Non credi anche te? Spero... Veronica... Bah, è un nome... La mano supersonica. Firi, 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 firi... Scusami. Aia, il tacco! Niente, non posso più bere. Dimmi. Niente! Possiamo? Grazie Blackfire. Multiplayer, create... Allora, la stanza... Adesso ti scrivo tutto su TS. Ma dillo, tanto nessuno ce l'ha comprato, sto gioco del cazzo. Allora, la stanza è sedere. Devo dire anche la password. Aspetta, che almeno entro... Tu crea la partita da due, così entriamo solo in due. Si può? No, no, non vedo l'impostazione. Allora scrivimela, dai, che non si sa mai. Hai fatto EU in basso? No. C'era già l'altra volta. C'era già l'altra volta. Eh, vediamo. Infatti c'è solo Ghetto Granny. Aspetta. Non ci sei. Hai ragione, lo devi rimettere ogni volta, sì. Allora. Ok, ti scrivo su TS la password. Prego. Non ci sei però. Fammelo creare. Sono adesso. Ma perché? Che password? Ma non riesco a scrivere. Come si scrive? Ma come riesci a scrivere? Sei stupido? È facile. Cosa c'è di male? Oh, sei entrato. Not ready. Che cacciatore prendi tu? Aspetta. Io prendo quello Uber Power con gli occhiali da bastardo. Poi con la sinistra. Sì. Io vado di quello col pompa, allora. Non mi posso modificare. Che è successo? Hai fatto partire? Sì. Ah, sai che potevi modificare il logo del... Ho cliccato, non è successo niente al personaggio. Boh, a me è partito un caricamento. Te no? Adesso sì. Ah, ok. A Blackfire chiede come ho conosciuto la mia consorte. Non me ne ricordo un cazzo, quindi non lo so. Mi dispiace. Non mi ricordo. Sono passati tanti anni. Su serio, eh. Non è... Non è una stronzata. Bisogna scherzarsi. No, no. Te lo giuro. Non sto scherzando. Grazie a Dippa. Voglio donare perché ormai in mesi... Ok. Sta caricando sta matta. L'abbiamo provato? Andava bene, eh. Grazie mille, Dippa. Un abbraccio. Che succede? Cos'è sto rumore? Che rumore? Io non sento niente. Oddio, è vero. Oddio, è vero. Oddio, è vero. Grazie mille, Dippa. Su serio. Sono appena ricordato. E grazie anche a Dark Sato The Shadow. Che c'hai? Che c'hai? Allora, ragazzo, innanzitutto ti dico una piccola features. Eh. Premi C. Allora, tu ti starei chiedendo come vai in mezzo alle scatole, non in alto, magari. Questo non c'è dato da sapere, ragazzo. Non importa, vabbè. Lavoreremo anche contro il gioco. Che dobbiamo fare? Eh, prendiamo qua le trappi. Eh, c'è Malta Zard. Qua c'è Traps. Traps. Ok. Io non mi ricordo come ci siamo conosciuti. C'è quegli bootlug di 6-7 ore. Me lo giuro. Aspetta che... Allora. Allora, aspetta. Dobbiamo presentare il gioco prima. Prego. Tu sai cosa dire? Io no. Praticamente questo gioco si chiama Gotman. Ah, siamo così? Va bene. Sì. Eh, quindi il nostro... Io ho già capito che dobbiamo montare anche questa live. Sì. Come? No. Come si? Allora, la prima parola è quella che conta. Ormai siamo una coppia omosessuale. L'hai detto. Siamo fidanzati. Questa è la trama del gioco. Beh, scusami. È già diventato pomeriggio tardi. Vado a letto. Ciao. No, aspetta. Aspetta, cretino. Dobbiamo prendere gli oggetti che di notte può succedere l'acqua allunque. Perché abbiamo un computer da gaming con otto schermi qua? No, è vero. Se l'ho acceso, l'ho acceso. Aspetta. Il cloud. Il cloud. In mezzo al deserto qui. Tre schermi. Schermata blu. Ah, non c'è segnale. Ah, drone monitor. È mio. Cazzo. 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 Aspetta. Ma dai. No, non mi piace questo. Come si toglie? Cazzo, come si toglie il... Aspetta. Oh. Aspetta. Marco, guarda la tua destra. Oh. Mamma, sei scemo. Ma tu sarai scemo. Come si esce adesso? È il drone. Esk. È il drone, sì. Ma come si... Ma quanto è grosso, scusa. Ma è già bucissimo. Sì. Andiamo a letto. Buonanotte. Aspetta che nel pick up ci sono le luci. Ma la batteria è finita, sto cazzo. Ma che cazzo... Aia. Prendine una. Ma no, va fu... Aspetta. Non ti avvicinarà il drone, sai? Non ti avvicinarà... Per favore, non ti avvicinarà. Vado dentro io. C'è il medico, te lo prendo intanto. Allora, qualcosa c'è? C'è delle bobine. Ammo. Piglio le ammo. Io prendo le mine. Sono full, sono full, ok. Sai che a me piacciono molto le minne? Grazie. Io ringrazio solamente... Non vi sto a leggere perché sono un casino stasera, però grazie mille a Maltazard, a Nihal... Chi? Non addirittura. Grazie mille. E a Saba per il tier 2. Grazie mille e grazie anche a Hultein. Scusate. Allora, dicevamo? Allora. Della C4. Io mi prendo una C4. Cazzo. Cazzo. Ma sei un imbecille? Ho capito. Non si può uscire. Allora, aspetta. Allora, qua c'è il C4. Prendi tutte le... Uno di ogni cosa. Ho già fatto. Ma perché? Che fastidio che hai preso quelli... Ma perché? Ma che sei veramente uno strozzo, eh? Ho puntato e l'ho preso. Allora, non è una Battle Royale. Cosa c'entro nel Battle Royale? Che poi... Aspetta, che c'è scritto lì. Usa il tuo compagno... Ma se ti levi dal cazzo magari leggo. Che è quello là? È tuo zio? Stavo guardando, infatti. Ok. Il zio non fa questi lavori. Devo fare pulmista. Metti le trappole prima di cercare qualche... Ma sì, ma allora leggi tu, eh. Ma senti una cosa. Non ti coglioni, vado via. Ciao. No! E se c'è il Gottman? Eh, l'abbiamo vinto il gioco. Scusami, è lo scopo. Accendi la luce, allora. Grazie mille ad Andrea. A Maxers, a Heinrich, a Seneg, e a Meziofretzius. Ma la luce... Non fa un cazzo la luce, scusa. Devo puntare. Non usarlo, è che gli sprechi i colpi di quello. Ma scusa, mi avevo in mano... Non me ne ho accorto. Ma possiamo guidare il veicolo? Oh, questi grilli, però, che fastidio. No, no, già... I grilli... No, mi pare che avessi provato poco fa. No, non si poteva. Devo abbassare l'audio del gioco, ragazzi. Ditemi voi. Sono veramente forti da me i grilli. Da me no, però voglio chiedere i mod. E lo scatto. Cosa ho fatto? Cosa hai fatto? Sono salito sulla roulotte. Come hai fatto? Scricciandoti. Chi è? Eh, non lo so chi è. Sarà il Gotman. Ma io non ho sentito niente. Sento i grilli. No, io ho sentito un elefante che aveva un infarto. Perdonami. No, non è vero. Allora, vieni qua, gatto. Vieni qua, puoi salire. No, Marco. No, non sto sentendo niente io. Ma hai messo l'audio a zero, perché sei un fivvone. Sto sentendo tutto. Anche i grilli che mi stanno rompendo le barri. Non puoi non averlo sentito. Ti giuro. Da me non è successo niente. Sto facendo parkour, comunque. Lo sto sentendo tanto. Ma dobbiamo giocare... Adesso l'ho sentito. Non è vero. Adesso ho sentito... Qui c'hai del lag mentale. Attento, gatto. A che cosa? Al Gotman. Ma che ne so. Aspetta, allora, c'ho delle luci. La pianto qua. Oh, no. Hai sparato. Mi sono anche cagato addosso. Bene, bene. Come si... Ah, Q. Premo Q. Tiè. Ok. Ah, vedi? È utile. Fa luce. Vai, vieni con me. Ah, ne metto una di qua. Ne metto una di qua. Aspetta. Bravo. Cazzo, quanta luce fa? Ok. Eh, sì. Siamo a San Siro? Veramente. Dove sei finito? Sono qua. Aspetta. Dove sei? Ecco qua. Mi vedi? Ecco qua. Andiamo. Vai. Allora. Aspetta. Con la C. Ma sei sicuro di voler andare così? Andiamo... Spavaldino Garibaldino. Ah, guarda, guarda. Andiamo alla chiesa. La chiesa. La chiesa. Aspetta, faccio C. Eh, sì. Di qua. Church. C come church. Take me to church. And the fallen. And the light. Bravo? No. No, ma per altri motivi. Eh, no. Andiamo in casa, andiamo in casa, dai. La casa di chi? Qua, qua. Oh! Qua, qua. Una baita. Una baita, sì. Oh, qua che magari c'è il leatherface dentro. No. Ma questo qui la porto, scusami. Ma questo qui la... No, non è. Non può. No, non è. Ho sentito un verso. Ma ha iniziato a piovere. Vabbè, sai, quando le buffere arrivano... Non è che poi... Io non sento più niente. Allora. Io non vedo. Come si entra, scusate? Ma qui c'è un carretto. Che c'è? È l'altoono. Che paura! Entra dentro, entra dentro! Un orso di gente! Aiuto! Gatto, cos'è? 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 Gatto, esci... Stai incastrando! Aiuto! Esci di lì, esci di lì! È un orso! È un orso! Ok, è morto, è morto. È morto. Buona, buona. Tranquillo, c'è il pompa io. Entriamo, entriamo. Vieni qui. Beh, io mi sono fatto la cacca d'osso. Mi ha gli occhi rossi. Vieni qua, vieni qua. Door. Entra nella door. Chiudi. Cosa c'è qua? C'era qualcosa da luttare? Devo abbassare l'audio? Grazie, Mickey e Frank. Per una mina la prendo. Non la posso prendere, gatto. È una grandissima cantante, però se la tira un po'. Sì, veramente deficiente. Fai abbassare un po'. 65, dai, 65 secondo me va bene. Anche io abbasso un pochino, allora. Master Volume. Io ce l'ho, 60. Eh no... Non so perché. Ultra, mettiamo Ultra. Ma non posso mettere che non mi tiene premuto quando premo, ma solo quando io lo dico io, come il mago Sylvan? Non ho mica capito che cazzo ho detto. Tu premi. Come si chiama quella cosa? Il toggle. Eh, se tu clicchi una volta rimane cliccato. Non voglio farla quella cosa lì. Te ne premuto basta e poi molla. Come prendere la non? Ovviamente lo fa. Grazie, è molto gentile, ragazzi. Grazie al like Monk. Un altro giorno, un altro giorno. Vieni qua. Aumentare un po' la luminosità è una buona domanda, non credo, ragazzi. A parte il fatto che la risoluzione qui è sbagliata, però... Ma fuori è diventato stalker. Aspetta un attimo, ma tu la risoluzione è quanto ce l'avevi? No, ce l'avevo a 600, ho messo a 1.900 bla 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 ed è uguale, quindi non so. Ah, vedi, vedi. Ragazzi, non posso aumentare la luminosità, però di giorno si vede. No, sì, di giorno si vede. Gatto, per favore, che è diventato stalker, qua è tutto tossico, le radiazioni. Dai. Vedi? Ah, perché il giorno e la notte si alternano. Ma io ho perso vita. Eh, l'orso sarà stato. Ho capito, ma non lo lutto ne niente. Ma il medici, te l'hai preso nella roulotte? No, l'ho lasciato lì. Sesta di pirla. Allora? Andiamo a prendere il medici, vieni. Ma qui non ho rovesciato una vasca, la lavatrice quanto è piccola? Hanno rovesciato una vasca? Sì, vieni a vedere qua. Ma l'hai il cesso wireless, col tubo che va dentro. Ed esce di qui, non c'è niente di qui. Qualcuno ha caccato delle monnette. Aspetta che non esco, come si esce? Ma che serve poi questo luogo? Questo è per nasconderti la notte, poi c'era una mina. Andiamo avanti, lascia perdere il medici, ti mi curo dopo, dai. Questo muore, io te lo dico. Andiamo, finché è giorno Marco, esploriamo, scusami. Sì, sì, certo. Qua c'è un lago, putrido, se posso dire. Lago, una pozzanghera grande. Allora, di qua a me dà due grosse, tipo. Certo che la luminosità comunque esagera o da una parte o dall'altra. Io non vedo più, gatto. Mi sto abbronzando. Ok. Allora, lì c'è un orso, attento. Beh, non ci andiamo. No, infatti, ho detto attento. Attenti al lupo, di solito, sì. Vieni qui. Sono qua, sono qua. Haici che sento i passi, la gente? La gente? La gente? Gli animali. Gli animali, sì. Le belve. Non credo. Ah, sì, mi ricordo. Cosa fa quello lì? Soprattutto cos'è? Ma è un fantasma? Aspetta, gatto, stai qua, mi avvicino io. Quello è un fantasma? Mi avvicino io, vai piano. Vai. Oh! Ma siamo pazzi? Gatto, io non ho più. Sta scorreggiando. Ma qua la valvola mitrale. Cosa fa? Ma... Palla ombra. Ma dai. Gatto, per favore. Cos'è? Sparo. E non ho capito, Marco. Mi avvicino. Non lo so. Dov'è? Dov'è? È lì, più avanti, sulla destra. È quello? No. Quello lì è il cucurso. Un pop-up? Un libro? Io vedo un po'. No, perché ci sono parecchi pop-up. Magari un pop-up hai visto? Non credo. Grazie del bacio. Stop e sparare. Vabbè. Di notte farà più... Sarà un problema, perché non lo vediamo. Andiamo a cercare qualche altro... Un'altra... Tra l'altro, devo essere sincero, da lontano mi sembrava un orso in piedi come Ursaring. Anche a me un po'. Anche a me un po'. Era Ursaring, proprio scuro. Dove sei finito? Ok. Qua, girate. Devi starmi appresso. Qua c'è una casa, vieni da questa parte. Ma io non la vedo. Con C. Ma con C, ok. Però ho detto, cazzo, come l'ha vista questo mago? Non sono mago, non sono mago. Però ho un giubbotto di jeans che, guarda, sono veramente bellissimo, gatto. Sono veramente... Le donne e tutti i miei piedi. Adesso qua non ci sono perché siamo una coppia gay, come abbiamo detto, però... Un'altra storia. Diciamo che avrei fatto strage di bambini. Queste cose le... Cioè, è tornato, è di lì, un altro. Dov'è? È di quelli lì che lancia le situazioni. Tiè, guarda che antiproiettile. Ma è durissimo. Eh, allora non gli sparare, scusa, che sprechiamo i colpi. Ma... Ma le munizioni li ha la... Ma questo qui è più chiaro, però. Ti sembra bianco? Che mi avvicino, aspetta, gatto. Eh, ci sono anch'io. Ah! Marco? Gatto, il cuore. Gatto, il cuore. Marco, io mi sono fatto la cacca d'ossa. Gatto, ho lanciato le cuffie contro lo schermo, io. Grazie a tutti. A posto? La prossima volta voglio... La prossima volta voglio anche la tua webcam, comunque, mentre giochiamo, eh. è fortemente voluta anche la tua webcam. Qua ci sono qua? Degli uccelli volanti? Vabbè. Vabbè, eh... Ho metà vita, gatto. Ce l'ho al medico. Io molto meno. Io la vita ce l'ho dove ce l'ha C. Però qui troverò sicuramente... Che, sei scepo? Ah, la devo buttare per terra? Ho capito, la valigetta la devo buttare per terra? Da quando? Che fa questo? Chi è? Io ho trovato una mina. Ma chi spari? È un corvo, bloccato nelle tex. Vabbè. Era bianco? No, non era la fara. Non era la nostra amica, no? Ma poi c'è la cosa ogni volta. Aspetta, eh. No. U. Grazie al Simusol. Oh mio Dio, vieni qua a curarti. Ma vengo lì a curarmi, dai. Ma si sta facendo notte, gatto. Entriamo in queste case. Sono già dei... Timmy, come si... Fai U, Fai U. E diventa tutto spavendoso la mente blu. Mi sono curato, full. Ok, allora, in casa. Vieni qua. Allora, vai. Chiudo la porta, non si sa mai. Ma è... Quanta spazzatura per terra, perdonami. Cos'è sta roba? Cos'è? Una radio. Una radio, eh? Aveva i bordi tutti liquidi. Non è vero. Da me i bordi tutti liquidi, quella radio. Come se dovessi prenderla. Ma a me non pare, però... Ti giuro, guarda. Beh, ho visto. Ma guardate. Non c'è un cazzo da lutare qui. Eh no, era per ripararci dalla brutta bestia. Ma lascia perdere, vieni di qua. Che a meno caso, siamo coraggiosi, noi. E' chiusa. Ah no, c'è. Ah no, c'è. Vai. Ok, qua. Che c'è? Niente. Vedo niente. Non vedo niente. È un campo rom. Cos'è? Beh, però guarda che dettaglio questa cassettiera, eh? Io vedo una... Tutto sfasato, che fastidio. Io vedo... C'era un corpo incastrato in casa, vedevo. Ah, c'è il tasto prima persona? Ci dice Luco. E allora sarebbe tutto più comodo. Aspetta. Non so se lo voglio. È, secondo me, è più comodo. Mamma mia! È molto più comodo in prima, Marco. È un orso, gatto. Metti in prima, così ti vedi meglio. Con la V di Verona. L'orso che cazzo fa? Scusami, c'ha dei gravissimi problemi motori. Vedi che in prima è tutta un'altra questione? È un altro lavoro, sì. Che fa? Ma no, che fai? Spari. Ma non l'hai preso, non l'hai? Ma non l'ho preso. Neanche l'ho preso, però. Muore? Muore? Ma... È andato via. È andato via. Cambiamo casa, vieni qua. Sì. Quella davanti a noi non l'abbiamo visto. O sì. Ci stiamo allontanando troppo dalla Rolot, comunque. Ma sì, la Rolot si fa. Che forti qua i grilli. Che fa? Ah no, questa l'abbiamo già vista. L'hai aperto? No. Gatto, dove sei? Vieni qua, vieni qua. Eh, ci sono un attimo. Volevo di arrivare, arrivo. Vai. Eh. Ah, ecco, perché se ti ho baciato non ti muovere lo so. Ma c'è un serpente! Ma che cazzo... Perché c'è un serpente? Guarda, ce n'è più di uno, mi sa. Come? Sento ancora io. Eh, sì. Cosa miseria, gatto. Dov'è, dov'è? Marco, non lo vedo. Eccolo. È morto. Beh, giustamente il serpente gli spari muore. Allora, c'è un... No, ce n'è ancora, eh. Sento ancora Eikens. È in bagno, in bagno. È in bagno? Qua c'ho le munizioni, se le vuoi prendere. Le voglio prendere, ma non trovo il serpente. Non lo sento più, in realtà. No, l'ho sentito per un attimo. Forse era quello morto che ancora doveva finire di morire. Ah, possibile, possibile. Ma qui c'è un bel divano tutto sburrato, Marco. Che schifoso che sei. Beh, scusami, eh. Ma non dire ste schifezze. Perdonami. No, non ti perdono. Prendi la trappola. Che trappola? Faccio una trappola. Ma come cazzo fai a vedere queste cose? Ma c'è... Vedo una sega. Ma non vedi niente? Non è possibile. Ok. I grilli io ti giuro. Grazie a Punitive Box. I grilli fanno parte dell'ambientazione. A meno ti mantengono un po'... Sai. Vediamo questo qui davanti. Che bello che vedo la scritta Antonello Golfini molto più in alto rispetto al tuo nome. È perché così mi puoi vedere da... Ma dentro casa è illuminato? Era la mia torcia, scusa. Era la tua torcia, sì. Cazzo, si vede meglio da fuori che da dentro. Sa che sorprese avrà questa casa, eh? Posso cambiare l'FOV tipo a mille? No. Un'altra mina? Non si può prendere. Vedi se puoi prenderla tu? Io ne ho già due. Dove cazzo la vedi, scusa? Ma, su un coso. Ma porca va. Io non ho capito come fai. Non è possibile, sei cieco, sì. Eh, no, è che non vedo. Sono cieco? No, è che non vedo. Grazie a Punitive Box. Sì, la cecità, però. Allora, andiamo... Questa l'abbiamo visitata. Sa di no, perché è chiusa la porta? Grazie anche a Jack Waza. Siamo un pochettino qua. Dove si esce qui da questo cesso di posto? Ok. Dove sei andato, Marco? No, per un attimo avevano smesso i grilli, mi stavo riposando il cervello, e invece... Non c'è niente, gatto, niente, è stato inutile. Allora, vogliamo andare alla ciurcia. Ah, ma qui siamo a Greenfield Village. Eh sì, ma secondo me la chiesa è la chiave di tutto, eh. Troviamo le cose segrete. Io non voglio mai più spaventarmi come prima, se possibile. Va bene. Farò di tutto, te lo giuro. Farò di tutto per impedire che ciò accada. A te e anche al sottoscritto... Mamma mia. Eh, piove di nuovo. Ma mi ha spaventato il corvo a me. Mai più? Mai più. Ma io per sovita, quando ho perso... Ah, il serpente, magari. Catto, ma in giro così di notte. Ma io non vedo una sega, Marco. Eh no, anche per quello. Non so quanto sia la bellezza. Ma poi, perdonami, no? Eh. Noi stiamo cercando il Gotman. Ma abbiamo già trovato due mostri. Ma non ce ne facciamo andare bene? Catto, è esploso un... Petto. Eh? Petto, ho sentito io. Credo fosse un tuono, però era un petto. Mamma, di nuovo. Ah, vabbè, ha smesso. Sì, guarda, bastava superare queste zolle, vedi. Allora, qui c'è la church, ma anche un numberpin village. Allora, andiamo prima alla church. Secondo me in church si trovano... Trovi tipo l'arma di... Come si chiama quello lì? Di Keanu Reeves. Quel film. Era... Cos'era? Era... Aspetta, eh... Constantine. Bravissimo. Un porcello, l'hai sentito anche tu? L'ho sentito anche io. Beh. Ma che è so... Ma mi fa male! È incastrato nelle combe! Gatto, è morto! Ma... Mi ha tolto tutta la vita, mi ha tolto! Adesso ci curiamo, aspetta. Ma qua c'è la madame mia. Eh, c'è un medikit, vieni qui, c'è un medikit. Vale. Sì, un po' di vita ma l'ha tolto anche a me, anche se non mi sono accorto. Ok. Era Constantine, esatto. Torniamo le armi di Constantine. Che bello questo fantasmagorico... Niente, è una merda. Una barra, attenzione! Però è piccolina, c'è un bambino dentro. Gatto, aspetta. È piccolina. Eh, è uscito rosso! È uscito qualcosa di rosso qui. Ecco! No, sono le finestre, gatto. No, no, no. Sono le finestre che si glitchano con la luce. Sì, però credo fosse le finestre... Dove sei andato? Ma che cazzo? Sono sempre stato convinto. C'è una scritta qua. Le due montagne. Ah, probabilmente noi dobbiamo prendere... Bello! È il Gate London. Ma questo è il Cavaliere, questo qui. È forte. Gatto! Marco! Bestia! Bestia! Gatto! Spara tutte le munizioni! Scappa, scappa, gatto! Scappa, 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 scappa! Mi metto una bomba. Io li metto questo. Ah, ah! La trappola! Perché non si piazza con la Q, ma con la E questa? Non la piazza, non la piazza! L'ho messa, l'ho messa tutto in giro. Vieni via! Adesso me la piazzate tutto, ok? Fai un, fai un. Dove sei? Dove sei? Ma, incastrata. Gatto, che paura! Sono morto. Ho visto il tuo cadavere a saltare. Aspetta. Devo tirarti su? Non lo so, Marco. Io sono morto per una mina che ho messo io, tra l'altro. Aspetta. Ti posso tirare su, forse? Dai. Su, veramente. È cagato addosso, eh? Ho fatto un urletto classico. Gatto, mentivo. Grazie a Nicolas e anche a Silvestri. Un attimo, perché... Aio. Allora. Io posso prenderlo e curarti? Ma tu mi vedi? Io non mi vedo dalla tua visuale. Ah, ok. Come faccio, gatto? Non lo so. Prova a avvicinarti. C'è un po' di luce. Eh, non vedo più niente, io, in realtà. Gatto, non riesco a... Non credo si possa... No, secondo me non puoi, eh. Ma mi ammazzo. Eh, vai sopra una mina a sto punto. Eh, vai sopra una mina a sto punto. Bene. Allora, riproviamo. Come ritorni to main menu? Ma bisogna rifare il server, secondo te, eh? Eh, potrebbe essere, sai. Cazzo, sì. Mamma, che paura, cazzo. Allora. Ok, vai. EU. Vai. Stesso di prima? Eh, sì. Aspetta che lo ricreo. Devo rifare EU. Grazie mille, Chris. Ah, sì, mi ricordo. Prego. Ok. Io quasi cambierei e prenderei quello con la maschera, sai? Però ho meno vita. No, no, voglio quello con più vita, che mi cago. No, eh, ma è scritto giusto come prima. Sì, tutto uguale. Sedere e poi la passo da quella lì. Eh, no, mi dice wrong. Perché c'ho il caps lock? Forca vacca. Bravo. Cos'è che posso cambiare i colori? No, ragazzi, non ho perso pacchetti. Si vede male. È strano perché a me sembra andare tutto ok. Cioè, aspetta un attimo, Marcolino. Sì. Ma, ragazzi, io vedo anche bene la live. Non so dirvi. Ok, a posto. Fantastico. Ah, il flare era il flare. Ah, può essere, sì, sì, sì. Tu quella che hai preso, scusami? Io prendo quella in mezzo. Ma cazzo, ma gli altri hanno più vita? Ma io ho preso quella con vita più. In realtà hai preso quello equilibrato, tu. Eh, ho capito, però... Perché io ho meno range, però faccio più danno, giustamente, ho il pompa. Ma io riprendo lui. Puoi chiamarci gli scorreggioni come nome, per favore? No, non posso. Come fai? Sì, clicca. Gotman Hunters, dove c'è scritto lì? Ah, ok. Ah, ok. Grazie a Lutrus, per lo sub. Lutrus. Con due R, sull'regione. Sì. Grazie. Prego. È rimasto uguale. Vedi anche tu? No. Puoi cambiare anche l'icona, se vuoi. Io lo vedo, io lo vedo, gatto. No, ti credo, io no. Vabbè, faccio ready, va a far culo. Tiè, vai. Gli altri hanno più vita, tu hai preso quello con vita più. Grazie ai rossi. 82, 27. Che non è 827. Almeno, guarda, non mi spaventavo così dal ragno di Hunt Showdown. No, effettivamente. No, io non mi spaventavo così da un bel po', perché di solito mi spavento, però tirando sti urli, ma, cioè, mi sono cagato molto meno in altri giochi, anche se lanciavo il mouse, che suono terribile. Ma io ho mollato tutto. Siamo uguali adesso. Perché? Hai sbagliato? Aveva il tondino verde. Ma sì, vabbè, ma che ti frega. Allora. Ammo. Vabbè, vabbè. Ma allora, secondo te bisogna andare... Ma cazzo, le telecamere, ma le vado raccolte? Le raccoglie un po' di telecamere. Ma le ho detto, tu sei partito spedito. Secondo me dobbiamo un attimo di studiarcela qui. Allora, fai così. Prendi tre telecamere. Tutte e tre. Prendi qua l'accampamento. Aspetta, anche viene lui adesso. Facciamo la cosa contraria. Ah, ma noi possiamo raccogliere. Fino ad un certo limite è un po' tutta la roba. La C4 me ne ha raccolta una. Due. Due è il massimo del C4. Ok, le mine ne ho raccolta... Tanto, cari, raccogli finché puoi. Tanto non... Eh, ma poi dopo, purtroppo, lutiamo anche. Qua c'è il drone. Hai raccolto anche le luci? Io sono qua sopra, gatto. Le luci le hai raccolta? Le luci? L'ho raccolta, sì. Ok. Tu sei lì? Il drone, lasciamo dove. Prendi qui le luci della città. Perché lo spacchi. Lo spacchi. Aspetta, stai sopra il drone? Ci sei? Si può fare, gatto, gotti. Ci sei? Vai. No. Eh, sei caduto. Peccato. Era il gioco della vita. Che scemo che mi rasenti lo c'erlo. Rasengan! Eh. L'hanno fatto bene, sai, il controllo del drone. Perché funziona con WASD e GCL-I. Quindi, eh, allora, c'è J, K, L e I, che praticamente è l'altro WASD. Ok. Ed è comodo perché con il WASD lo muovi a WASD, praticamente, a movimenti. E invece con gli altri fai la rotazione, il su e il giù. Ok. Cazzo, è fatta bene, eh. È fatta bene. Bravi, bravi. Allora. Bello. Use, 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 you're a compass. Gatto. Eh? Poi, search barn, bride, graveyard, crunch, and village for someone alive. Queste sono le missioni. Ah, praticamente, dobbiamo trovare qualcuno vivo nei villaggi. Certo, certo. Quello che abbiamo fatto prima. Poi, dobbiamo mettere le nostre trappole. Marco, sto volando col drone e vedo della luce, attenzione. Dobbiamo cercare per, appunto, proteggerle noi stessi. Perché è molto importante. E poi, ante the gothman. Eh? Mettiamo le luci, gatto. Le luci, le luci. Sono arrivato alla church. Le luci. Mettiamo le luci come coez. Sono arrivato alla church ed è illuminata. Perché è illuminata? Siamo belli illuminati. Cosa hai fatto? No, sono arrivato alla church ed è illuminata. Gatto, ma perché non stai entrando dentro per fare questi lavori? In che senso? Sei fuori in giardino. Per forza il computer è lì, scebo. E non puoi andare dentro e usarlo da lì? Eh no, mica è un portatile, è un fisso con tre schermi. Che idea delle palle, guarda. Ci sono i tablet adesso. Finding Bigfoot. Ma gli ha insegnato niente. Fai mettere le trappole. E non prenderle, guai a te. Che puoi non mettere tra... Cosa metti le luci così? Andiamo. Vieni. Andiamo. Marco, dobbiamo andare. Ma le telecamere poi come le guardiamo? C'è il ponte lì. Andiamo al ponte. Le telecamere le dobbiamo mettere in giro. Se le mettiamo vicino a casa facciamo come Bigfoot e non vediamo un cazzo. Poi ci vediamo i nostri scrotti. E non serve a niente vedere gli scrotti. Dove sono le telecamere? Qual è l'icona della telecamera? Ah, ok. L'ho trovato adesso. È quella... La forma di telecamera, destamente. Non l'avevo vista ancora. Ho lasciato il drone lì, ma tanto poi dopo lo posso riportare indietro. Gatto, c'è qualcuno sopra il Gottman. Fermo, zitto, immobile. E sopra c'è il Gottman. L'ho visto. Aspetta che... Di nuovo in terza. Non vedo una sega, Marco. Gatto, vai tu, allora, vai. Che sei? C'è, mo? Eh? Do, Marco. Sei pazzo? Cos'è? È comparso qualcosa, te lo giuro. Eh, ci ho detto, c'è il Gottman. Ma io tornerei alla roulotte, gatto, questa sera, eh? Come? Vuoi mettere le telecamere? Sì. Cosa l'hai trapanata? No, l'ho messa una. Perché due? Che poi... L'ho messa una, l'ho messa una. Come funziona? Ma poi si ruoterà? Ma è sparato. Io, io. Stato io, scusa. Ne metto un'altra. No, però aspetta. Eh? Che aspetta? No, la tiro via, per... No, non ho un secondo momento. Dove sei, gatto? Ho messo una telecamera anche io. Gatto? Ho messo una tele... Mi senti? Pronto? Sì, ma dove sei? Eh, più su di te. Guarda che coraggioso che sono. Bravissimo. Scappa via, scappa via, scappa via. Gatto? Marco scappa tantissimo. Allora io non l'ho sentito, vi fido. Ma vieni via. Verso la roulotte? Sì. Ok. Ah, non vedo un cazzo. Torniamo lì? No. No, no, ma va bene così, va bene così. Faccio coraggio io, dai. E ti guardo dalla telecamera, aspetta. No, da solo ti attacchi, gatto. Sì, è adesso. Dio mio, gatto, mi ha urlato nelle orecchie. Dio mio, gatto, mi ha urlato nelle orecchie. Eh, ok. La telecamera ha una sensibilità. Eccolo, gatto, è qui. Come è qui? Gatto, vai via dal computer. Gatto, vai via dal computer. Arriva, arriva in casa, arriva in casa. Spostati, spostati, bastardo. Che paura. Fermo, fermo. Vabbè, a posto. Giazzato, sei scappato, eh. C'hai paura? Ci metto qua le trappole, va. Allora, le trappole le vedi? Non ci cascare, eh? Mi fa male tutto qua. Gatto, io ho urlato il chiodo che ho nella marcella e mi è esploso. Grazie a Master Andy. Eh, grazie a Master Andy. Grazie a Cacchio, io direi, guarda. Io metterei una bomba qui. Ma ha tolto un botto di vita comunque sto figlio di una grandissima, eh? Ma c'era la porta, scemo, bastava far così. Eh, vabbè, tanto non ci ha preso lo stesso a me che... Tu sei deficiente allora, eh? Te lo dico io. Ok, ma cos'è sto parlo? Ah, sì. Come si... Come metterrebbe in piedi questo baradamal? E' bello che tu arrivi al computer e questo ti arriva dietro senza suoni da me. Perché da me ha urlato una volta poi... Allora, in mia difesa... Cato feria! Again! E ho un orso questo. Vabbè, è un orso. Ah, chiudo fuori, è posto. Eh, super. E non posso entrare lo stesso. Ma perché sono di nuovo in terza io? Perdonami. È morto. Lo sodomizzato. E grazie anche a Nebula Key? Il drone è qua in aria. Potrà... Potrà. Guarda bene dov'è che qua mi segna ancora il Gotman. Io vado sopra... Sai cosa faccio, gatto? Vado sopra la roulotte. Eh, vado sopra la roulotte. Caghella. Allora. Vedo... Me lo prendo in faccia io, scusa. Ma non è vero, sopra la roulotte. Eh, ho capito. Ma sai che è glitchato? Ma arriva in faccia lo stesso. Ma va a cagare. Dove siamo? Noi. Rispetto al drone. Eh? E tu l'hai guidando. E l'ho perso, va bene? Dunque, questi grillini, guarda... Non parliamo di politica. Che non sono quelli di grillo. Sono fisicamente dei grillini. Fisicamente? Sì, delle chiri chiri. Cos'è? Marco, ma poi ci sono delle cose da visitare. Cosa fa certo, non quello lì? Delle cose da visitare incredibili. C'è un pontile... Con un treno. Bellissimo. Puoi vedere la live? No, adesso non posso. Perché dovrei aprire tutto. Cioè, vedo la chat, ma non vedo la live. Eh no, puttico. Allora, qua c'è ancora la vita del Gotman. Io voglio andare a prenderlo. Gotti subito. È Gotman. Eh, aspetta che sto arrivando verso... Vado mani nude. Non mi frega niente. Ok, sono le telecamere. Sì, sto venendo da indietro. Ok, allora recupera il drone e poi andiamo insieme. No, no, io ti seguo col drone, Marco. Occhio alla trappola, te lo dico. Sì, vai. Ok, ci sono, vai. Ok, andiamo. Io vengo col drone. Un cagone, guarda. Tu se mori ti vedo da distante. No, vabbè, dai, vai, arrivo, aspetta. Vuoi arrivare? Aspetta che mi fa male un occhio. Il drone lo lasciamo qui? Ma ti sei curato tu? Eh, non mi ha colpito. Mi ha solo fatto cagare a dopo. Allora, aspetta che mi curo io, perché mi ha fatto un male boia. Eh, magari andiamo a prenderci... ...altri medikit in giro, poi. Vabbè, dai. Questo phantom gigante. Mamma mia, quanto ha urlato. Prego. Tu non hai idea, gatto, quanto ha urlato nelle mie orecchie. Tu non hai idea. Io ho sentito urlare te. Eh, ma perché mi ha fatto veramente spaventare. Mi ha urlato forte, come se fosse in camera mia, di fianco a me. Spendete le luci con consumate. Fortunatamente il gioco non funziona così. No, infatti. In teoria salendo qua c'è il Ghostman. Tanto l'abbiamo smitratto un bel po'. Guarda vita che l'abbiamo tolto. Come in teoria salendo qua? No, si sposterà. Ma no. No, vabbè. Sono gli spiriti, allora, quelli di prima che lanciano le palle ombra. Quelli del tempo. Anche quelli mi hanno fatto un po' cattare addosso. Ah, il primo non tanto, perché faceva palla ombra. Ma il primo è salito in alto. Cazzo, il secondo invece mi aspettavo la stessa cosa. Invece c'è tirato un'inculata all'inferno. C'è tirato una bustata. Ah, ecco quello di cui ti parlavo prima, vedi? Che c'è? Che c'hai? Cosa c'è? Che è quella roba lì? Ma è un cerbiato, che ti frega? Che fai, in corna? Ma che cambe corte! Ma mi ha fatto malissimo! Ma siamo pazzi? Brogato. Ma quanto era piccolo poi? Ha tolto un quarto di vita. Come è? Sì. Ah, qui c'è il ponte. Oh, io ho paura che qua c'è il jumpscare più forte. Ma no, ma no, ma salmi che ha scrittato. Ritorno a casa, dice la scritta lì. Non ritorno. Bravo, ti seguo. Vai, 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 vai. Ritorno. Ritorno, gatto. Ha vomitato sangue, l'ho visto, eh? Gatto, aspetta. Ma che sputa sangue! È diventata rotta, ma che sfiga, eh? Via, 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 gatto. No, 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 no. Un orso! Due orsi! Fali combattere tra di loro, frega niente. Metti qua. Il duello! Mamma, mamma! Le bombe, le bombe. Mi ha grato tutto. Scappo, scappo, scappo. Gatto, ti seguo. Che situazione del culo. Ti seguo, c'è stappelli. C'è stappelli qui che mi... Ce l'ho ancora dietro? Sì, sì, ma sono anch'io dietro. Con tutta la banda dietro, eh. Ma se riesco a fare un movimento perentorio... Metto la trappola qui. Sono inciampato nella mia stessa trappola, sono caduto per terra, gatto. No, Marco! Sì. Sei morto? È forse. Sì, you died. Io faccio il Super Mario. Forse l'ho distratto, eh. Non sento più rumori da te. C'è solo l'orso. Due orsi. Due orsi, ok. Sparagli, magari. E magari pigliavano le bombe. Guarda, io gli ho messo la bomba sotto i piedi al Gottman... Ma che cazzo, sti orsi, scusa? Gli ho messo le bombe sotto al Gottman, non è sceso niente. Eh, ma sono micidiali, sti orsi, eh. Torno a casa. Es. Ok. Niente, gatto. Ma dici che non ti posso proprio resare? Vabbè, prova a tornare. Adesso vedo, al massimo rifacciamo un'altra volta. Oppure da qua, forse? Non lo so, a me dice solo you die. Eh, vabbè, ma ci sarà un metodo dal cesso? Vabbè, allora, mi curo e poi vediamo. Vai. Ok. Torno lì. Eh, oltre al Gottman che mostro c'è? È per adesso o quello? Beh, no, ne abbiamo trovati tre. Ne abbiamo trovato, beh, c'erano poi i santuari della... ...della... ...santuarità. Che poi, che ad avere degli orsi restano, secondo te? Non ho accattato altre munizioni. Prima sono rimasti. Sono rimasti. Ci faremo un altro orso, ho capito io. Ma quante ce ne sono? Non era la mia distinzione, Grizzly? Era una domanda. Non ho capito, scusami. Non ero... Non l'ho sentito, ti giuro. Non ero in via... Tranquillo, gatto, non c'è nessuno. Che è dietro di te, gatto? Allora, siamo chiaramente in Smallville. Non è morto, gatto. No, non lo stai colpendo, gatto, non lo stai colpendo. Ma sì, ma che cazzo duri nel mio buco del sedere? Vai nel fienile, nel fienile, gatto. È andato via. Ma nel fienile trovo la cosa, la fotocamera di Clark Kent. Non c'è una fotocamera. Mi ha fatto parlare dell'astronave. Ok, che non era nel fienile, però. No, è stata anche nel fienile per qualche stagione, sì. E poi l'ha spostata. Marco! Marco, qui sicuro c'è qualcosa. Qui sicuro c'è qualcosa. Guarda, sono con te io, eh. Cioè, spettantariamente... Non va. Bisogna trovare la chiave, Marco. Allora, accendi sti cosi, così non sei al buio. Non va, non va. Che ti ho detto, non va. Perché devo mettere i miei? Cioè, bisogna piazzare... Non me lo fa piazzare. Non me lo fa piazzare io. A me tra un po' arriva il Gottman, comunque è notte. Vabbè? Perché è compasso di notte prima. È vero. Però prima abbiamo attraversato un ponte, tipo il ponte per Terabitia. Per quello si è arrabbiato. L'ho sfidato e lui si è arrabbiato. Non è che ha capito come funziona qua, sta torcia del buco del culo. Vabbè. Ho sentito delle serpi. È bello che a me rimani in terza persona. Mica posso mettere in prima... Sì, che è un fastidio, guarda. Tiè. A me le luci non le hai accese, tra l'altro. Eh no, perché non si può... Ok, ho raccolto questa e questa. Vedi che qui c'è una situazione. Secondo me qui sotto c'è... Paralucchetto. Già fatto. No, non va. È la prima cosa che ho cercato di fare. Naturalmente. Prima cosa ovvia che uno fa. Sono scomparsi degli armadietti. Boh. Vabbè, ti vengo incontro. Dove eri? Nel ponte. Poco dopo. Prima non abbiamo trovato questo luogo. Comunque, grazie mille Davide. Cioè, non c'era sto posto prima. Entra qua, vedi cosa trovi? È il buio, trovo. È il buio. È il buio. Non trovo niente. Ci sono degli alto forni. Del 1600. Gli forni per fare i martelli. Mi credi se ti dico che ho un mal di gola incredibile? Sì. Ho urlato io. Figurati. Che troia. Questi sono dei missili? No, era un legno? Era legno. È un altro orso? No, vabbè. Ma non è possibile, ragazzi. Quello non l'ho sentito. L'ho solo visto. L'ho visto. Mi sono anche un po' cagato d'osso. E ti pareva? Allora c'è un altro forse. No, no, ma come fa? È morto. Si è afflosciato. Gatto, è morto. Eh, vabbè, infierisco. Dove sei? Io andrei in un posto dove ti puoi nascondere. Ma io ti voglio ressare, spero. Ma io non so dirti davvero perché ero dal ponte a dove siamo scappati. Quindi fai una media. Sì, sì, ma adesso vedi che ti trovo. Eri morto molto vicino al ponte in realtà. Sì, perché tra l'altro occhio che era pieno di bombe lì. Infatti non ne ho viste neanche... E non te le segna le bombe. Le trappole sì, le bombe no. No, no, anche le bombe te le senti, segna tu. Ma ancora, sto cazzo di essere piccolissimo. Ma quanto è duro poi? Ma guarda te, dov'è? Guarda che fa malissimo, io te lo dico. E lo so. Mi ha rovinato. Ah, guarda te. Uh. Ah, mi sono incerotato. Ah, ancora? Non me lo dire. Che ogni volta che li piazzo poi li posso riraccogliere e me li ridà full. Aspetta. Ho rotto il gioco, aspetta. Marco, ho rotto il gioco. Cos'hai fatto? Praticamente il medikit ha 5 utilizzi, no? Sì. Ma se tu non li finisci, te lo metti in tasca e poi lo ritiri fuori e lo rifulla. Porca macca. Yes. Non che possa essere molto utile, visto che per adesso stiamo morendo. Sembrava che c'è scritto Marche nella bussola, dice il buon Luco. Davvero? Non mi pare. C'è scritto il mio nome perché in qualche modo mi puoi tirare su. Intanto mi pulisco gli occhiari. Sì, sì, sì. Guarda che sei qui. Guarda, 140 metri. Arrivo. Cazzo, c'è il Gottman lì, te lo dico. Ma va là. Ma va là, ha detto. Ricordatevi queste parole. Ma va là, va là. Eccoti, ti vedo. Trova a tirare su, che magari da me eri glitchato e non potevo per quello. Ma tu vedi il mio nome per terra? No, vedevo te per terra glitchato in una tomba. Ok, allora mi sa che ti posso restare. Aspetta un po'. No. Un po'? Ah, adesso. Provo col medikit magari. Ho provato anche io, ma non l'ho buttato per terra. Sì, te l'ho buttato per terra, ma non... Vediamo nei tasti. Purtroppo ti toccherà andare avanti senza di me, gatto. Mi dispiace. Guarda, davvero, sono triste, perché... Avevo proprio voglia di cagarmi addosso. Aspetta un attimo, adesso vediamo. Magari si può fare... Sei. Piove. Eh, hai tirato fuori il medikit e c'è iniziato a piovere. C'è un nesso, dici? Sì, sì. Che paura. Eh no. Io ti giuro, quando non c'è la luce dei tuoni, non vedo niente, io. Qualcosa nella roulotte, non c'era niente. Abbiamo già guardato. No, per restare, no. Ma non ha senso così. C'è ogni volta che uno muore. C'è un elementario tra le mine. Vedi un po', tira fuori, magari. Vedo un cazzo. Occhio alla trappola che la prendi tutta, eh. Eh, vabbè, ma mi vado ad uccidere a sto punto. Io troverei prima i santuari. I che? I santoni dello svapoli, quelli facevano... Allora. Io non supererei il bridge a sto punto, no? Ah, le bombe qua. Ma io non voglio andare senza di te, scusami. Guarda che qui esce fuori, eh, te lo dico. Ma va là. Hai visto? Non c'è. E dopo esce fuori. Infatti non è uscito, guarda. Tranqui. No, c'è qualche sbaglio in questa cosa. Perché? Come è uscito? Eh, il caso. Ed è uscito da qua sotto, tra l'altro. Magari era in villeggiatura con la famiglia. La famiglia? Corvi, questo è un segno, eh. La kappa non lo posso buttare. È un segno, i corpi sono un segno, gatto, arriverà. Ma che segno, che segno. Eh, vabbè, non mi credere, guarda. Vabbè, che ormai mancano otto minuti, quindi a sto punto andrei un attimino avanti per vedere se magari posso trovare qualcosa per ressarti. Però la prossima volta mi ammazzo, eh. Eh, per forza. Non viaggio senza di te, non vivo. Io che non vivo più di un'ora senza te. Come posso stare una vita senza te? Mette molta più ansia a questo di Resident Evil 2. Sono d'accordo. Chi sei? No, niente. Erano dei cespugli. Sembrava della gente setta, invece non è. Sbagliato. Io voglio andare all'Umberpain Village. Secondo me è un posto fico. Tu puoi ruotare la telecamera o no? No. In base a dove la ruoto io? Io faccio quello che fai tu, sì. Ok. Però in terza mi vedi tu. Per forza. Ci ho provato a fare B. Niente, non c'è vero. Non c'era bisogno di rompere tutto, comunque. Abbiamo fatto un test. Spacco la tastiera, vediamo se poi funziona. Epico. Tra l'altro la casa che ho visto oggi c'ha due serie di luci incredibili quando è in entrata. Ma hai scritto un cazzo? No. E allora è uno che sorride. È uno che sorride, infatti. Non è rompendo. Aspetta che controllo velocemente prima che vada via la luce. Ma sono le case di prima, no? Non sono le serpi qui. C'è la destra. Poi se l'audio è tutto sbagliato è un altro discorso. Fuori dalla casa, credo. Sì, sì, sì. Serpente. E lì, l'ifone. Uh, non mi serve. Sta respirando, tra l'altro, serpente. Ad agosto su Steam dicevano che non c'era modo per risuscitare i compagni, ha scritto Luke prima. Grazie, Luco. Ecco, e niente, vabbè, ci ammazzeremo, che dobbiamo fare. Qua è la porta, dov'è? Io sono già morto. Dove si è? Da dove si è? Perché? Qua, è il portico. Ma che cazzo. Vabbè, se non c'è modo allora non è neanche sì. Poi chi ha costruito queste case? Voglio sapere. C'è una cittuità, quindi? Un popolo che vive qua? Aspetta, Marco, io ho sentito del satanasso qui fuori. Io non ho sentito niente. Eh, non hai le orecchie. Però nella casa di fronte ho notato qualcosa di fuoco. Puoi uscire, gatta, a vedere. Ma che colpi, ragazzi? Porca vacca, non me ne ero reso conto, so. Qua di fronte ho notato... Girati, sinistra. Quella è la casa. Questa. Questa qui? Erano fiori, non era fuoco, erano fiori. Possiedito un elefante. A destra, ragazzo. Io ho visto dei colpi. Chiuditi la porta, eh, niente. Ma che mi frega, ormai... La tv. Prova ad uscire di entrare nel cervello, eh, no, lo sto stando io. Non posso. Biglietto. Non capisce perché quello deve attaccare. Facciamo uno scheletro, secondo me. No. Sarebbe stato interessante, non c'è il cazzo. C'è l'orologio, c'è delle sigarette. Ah, vedo dei muri quando ti giri, quindi... Ah, ci sono delle sigarette in russo. Ah, attenzione, Deidze, la mod. Siamo a Cern in russo. Cos'hai sentito? Il mio naso. No. Ho sentito un verso nel gioco, strano, che non ho mai sentito. Non lo so, ma io ho fatto un rumore col naso, poi... Ma il naso l'ho sentito, ma non era. Scusami. Mi prende per il culo perché c'è un naso tappato, scusami. No, no. Io vengo a casa tutti per romper il culo per il naso tappato, scusami un attimo. Ma io non ho detto niente. No, allora... Non ho detto, non ho detto, non ho detto. C'è da dire, sei un gran maleducato. Non l'ho detto, non l'ho detto. Marco, cazzo. Siamo così. Ora che... Adesso non arriva più. È Marco che porta sfighe. Ma come? Non so, un ciocciato tutto in faccia io. È l'orso di nuovo. Ma quanti ce n'è? Niente. Marco, il Sea of Thieves non fa arrivare il megalodonte. E qua invece fa arrivare tutti i mostri nel mondo. Oh, guarda che... Non può essere... Da quando sei morto non ho più visto nulla, eh. Allora... Perché la tiravo io. Vabbè, poi hai beccato anche il giorno poi tu dopo, perché... Beh, anche noi l'abbiamo beccato di giorno prima, eh. Era più o meno, era sera. Sai che oltre sta collina secondo me c'è un villaggio di nuovo. No. È a 400 metri. Tu la vedi la bussola, eh? No. Beh. Continuerei questa live fino a quando lo uccidete. No, questa... Ah, questa è live, ok. No, perché minchia. Sto arrivando di nuovo alla chiesa, non so se è una buona idea, però. Vedi un po'? Vedo se è una buona idea. Delegio 96. Grazie, molto gentile. Vedi, sono... Partecipe dal tuo live, intanto. Ho visto una luce lì in fondo. Dove? In fondo, dove stavi correndo? Dritto. È vero? Ho visto qualcosa. È la chiesa, mi sa. È il Gottman. Dove? Di fronte a te. Ho visto degli occhi rossi. Ma magari l'orso. Da dove stavi correndo? Perché ti giri sempre? Cazzo, c'è il Gottman, te lo dico. No, no, è l'orso. Ho visto degli occhi rossi. Eh, l'orso ha gli occhi rossi. A parte il fatto che sono in corso dal Gusb di prima. Quindi, adesso ti giri e c'è il Gottman. Ve l'ho visto. Eh, che cazzo hai visto? Non c'è niente. Guarda che sei veramente orvo. In alto l'ho visto. Ma che cazzo hai visto? Ho visto gli occhi. Ma va là. Guarda che adesso... Vedrai come si spaventa. Marco, spari cazzate. Scusami un attimo. Va bene. Vai qua sopra, per favore. È la church. La church. Vedi che è la church? Eh sì. Vai, vai. Vado, vado. Vado? Sono qui. Lo vedi? Lo vedi? Io non lo vedo. Io ti dico che l'ho visto. Eh, l'ho visto. Va, lo vedi? C'è un cazzo. Ma che non entra per un cagone. Io ti dico, io ho visto qualcosa che si muoveva di rosso qua. Bah. Secondo me... Ti devi cambiare gli occhiali un'altra volta. Probabile. Adesso io entrerai nella chiesa un attimo. No. Dai, che chiudi la live così. Non è... Nella chiesa, entra. Ma secondo me non risuccede come prima. Neanche secondo me risuccede, sai? Perché non ci sei tu. Però c'hanno le luci rosse dalla casa. Non vorrei che gli occhi che ho visto erano le luci rosse dalla... Guarda là lì. Eh. Sera. A lei. Devi prendere... Adesso leggi il bigliettino. Ma no. E basta guardarlo il bigliettino. Non si può prendere. Io non lo vedo più, tra l'altro, il bigliettino. Beh, non c'è niente. Non è spawnato da me il bigliettino. Non c'è. Ah boh. Eh, vedi? Non c'è. Eh. Probabilmente non ho visto il Gottman. Ti l'ho detto. Non è possibile che non esce, però. Perché? Vedi in questa casa? Ma è una casa o è una dependent della chiesa, scusami. Allora, qui c'è il cimitero. Forse è una tomba, allora, sto... Ah, corvi, non portano bene quelli lì, eh. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Un barbecue. Della cura? Sì, effettivamente. Chi ha acceso qui le luci? Ma le candele, effettivamente, che cazzo le ha accese? Che succede qui? Ti ho detto, non è possibile. Le persone dicono, le persone vivono... ...dall'altra parte del lago. Ah! Quale lago? Quale lago? C'è un lago? Ma è quello che abbiamo passato prima. La pozzanghera, dici? Ma, scusami... Eh, quello là sotto, gatto. Sarà questo qua a destra? A parte il fatto che lago non mi... Ma dall'altra parte cosa intende per dall'altra parte? Dall'altro lato del lago. Ma, eh, noi venivamo da là. O dall'altra parte intende tipo la morte. Tipo l'altra parte, no? Dall'altra parte intende tipo... Cos'è quello lì davanti? No, è un albero che... Magari intende l'altro mondo. Secondo me stai esagerando e non è. Eh, dall'altra parte... Lago in senso metaforico, certo. No, il lago è fisico, però dall'altra parte... Non so se vuol dire dall'altra parte del lago. Magari vuol dire dall'altra... È un gotman, quindi è morto. Ma che cazzo dici? Scusa, è un gotman, quindi è vivo. Che vuol dire? Ma non è uno spirito. Ma chi l'ha detto? Non è vero. Ma perché allora si attiva con le campagne? Ah, allora lì c'è di nuovo il fantasmone. Dai, sono le dieci. Cazzo, game over. Io siete un porco, eh. Che verrà ad attaccarti a me. No, no, guarda. Qui c'è il fantasmone. Dove è andato? Mago. Magissimo. È suo, è gatto. L'ho visto, l'ho visto. Che suez. Lo sto prendendo. È un forcello che ti insegue anche, gatto. Pure. Molto bene. Allora, direi che questa live è andata, posto così. Grazie a tutti per aver guardato questa situazione. Io ho un altro paio di mutande, chiaramente. Una volta morto mi sono adoperato per cambiarmi. E non lo faremo mai più, chiaramente lo disinstallo. No, no, no. Serie. Non ci credo. Serie? Serie. Ci vediamo giovedì prossimo. Con Gottman e Mark. Grazie a Mark. Chi sarebbe lui? Che ci ha fatto compagnia. Per l'inizio di questa serie. Ci devo pensare? Posso pensarci? No. Ok. È obbligatorio, direi. Obbligatorio. Vabbè, allora stasera raidiamo Rendirenna, va bene? Raidiamo Rendirenna. Che cazzone diciamo? Ma rendirenna. Sì, direi. Ah, quella renna parla. Così siamo simpatici e originali. Scriveteli. Ah, ma quella renna parla. Tra parentesi. L'ha deciso Mark dei termosifori. Grazie mille, mille. È troppo lungo, secondo me. Ragazzi. Ringrazio tantissimo Mark per la compagnia. Grazie per la donazione. Suver e sub. Ci vediamo domani mattina con un gioco molto più tranquillo. Buonanotte, belli. A domani. Buonasera. Non partirà. Ok. Grazie. Grazie.